È ufficiale, il Frosinone rinforza le corsie laterali con Paolo Ghiglione, 21 anni, arriva dal Genoa in prestito. Nell'ultimo campionato ha vestito la maglia della Pro Vercelli in Serie B, disputando 30 gare e realizzando anche un gol. Nella sua carriera ha giocato anche con la maglia della Spal. Il Frosinone Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Paolo Ghiglione. Il difensore, classe 97, arriva a titolo temporaneo dal Genoa, si legge nella nota ufficiale della società. Messi praticamente a segno il quarto e quinto acquisto, cioè i difensori centrali provenienti dal Sassuolo, Edoardo Goldaniga e Timo Leschert, mancano ancora solo i transfer, ora i sociali necessitano di un esterno di fascia destra. Il nome più gettonato è quello di Darko Lasovic, serbo di 27 anni, anche lui di proprietà del Genoa. Per l'attacco è ormai prossimo l'annuncio dell'ultimo acquisto, Stipe Periza dell'Udinese. L'accordo con la punta croata è praticamente chiuso, manca solo l'ufficialità, la trattativa con il Genoa è in dirittura d'arrivo.